Il cuoco emiliano Ingredienti Procedimento Prepariamo la pasta all'uovo, e, dopo il riposo di mezz'ora, la stendiamo sottile. Ripassiamo la lonza a cubettoni in padella, con salvia, rosmarino ed olio. Una volta cotta, la passiamo al tarita carne con il salume, crudo e mortadella. 3. Trasferiamo in una ciotola ed uniamo l'uovo, la noce moscata ed il formaggio grattugiato. 4. Lavoriamo fino ad ottenere un composto omogeneo. Formiamo delle noci di ripieno sui quadratini di sfoglia. Quindi chiudiamo i tortellini. 5. Sbollentiamo i tortellini in acqua salata, e, quando vengono a galla, li scoliamo per bene. 6. Limmergiamo subito in olio ben caldo e lasciamo friggere per pochi minuti. Diventeranno croccanti, ma rimarranno chiari. 6. Lasciamo sgocciolare su carta assorbente. In una ciotola, mettiamo i cetrioli a cubettini piccoli, la cipolla tritata e fatta spurgare in acqua e sale. 7. Le olive nere denocciolate, i pomodori a cubettini, e la feta a cubettini. 8. Condiamo con olio. 9. Condiamo i tortellini fritti con l'insalatina preparata. Spolveriamo con l'origano. 10. Meglio farlo 1 ora prima di servirli. . 8. Guardini. .